Allora, continua il nostro viaggio nel gusto, siamo al secondo, proprio Maria Grazia ha parlato di colori e di sapori, non è una scaloppina qualunque, anche nella preparazione. Sì, infatti ho immaginato una farfalla, certo con le poche verdure che avevamo comunque, diciamo, penso di aver fatto del mio medio per immaginare che la scaloppina di maiale a limone diventasse una farfalla. E solo volevo aggiungere una cosa, fortunatamente noi, allora, ci aspettavamo 60-65 persone, fortunatamente siamo arrivati sulle 85, quindi, diciamo, se qualche cosa è mancata in qualche piatto, diciamo, è proprio perché, diciamo, ce l'avamo organizzati in un certo modo. Solo questo ci tenevo a praticare. Comunque si continuerà poi.